Corruzione climatica Gli investimenti ESG, ambientali, sociali e di governance aziendale, nell'agenda climatica net zero devono essere fermati, affermano i commissari repubblicani per l'agricoltura, altrimenti seguiranno l'inflazione alimentare e la carestia. 12 commissari statali repubblicani per l'agricoltura hanno inviato una lettera a 6 delle più grandi megabanche americane informandole che la tendenza relativamente nuova degli investimenti ESG ambientali, sociali e di governance aziendale minaccia ad interrompere l'approvvigionamento alimentare della nazione aumentandone al tempo stesso i prezzi. Bank of America, BOF A, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley e Wells Fargo sono tutti membri di un programma organizzato dalle Nazioni Unite, ONU, chiamato Net Zero Banking Alliance, NZBA, che è impegnato a finanziare progetti d'azione ambiziosi per il clima. Uno degli obiettivi principali della NZBA è quello di costringere l'economia degli Stati Uniti a produrre emissioni zero di gas serra entro il 2050, cosa che secondo i commissari statali repubblicani per l'agricoltura comporterà gravi conseguenze per gli agricoltori della nazione. Raggiungere l'azzeramento delle emissioni nette di gas serra in agricoltura richiede una revisione completa delle infrastrutture aziendali, uno degli obiettivi della NZBA, ci legge nella lettera. Ciò avrebbe un impatto catastrofico sui nostri agricoltori. Le tabelle di marcia proposte per l'obiettivo emissioni zero descrivono cambiamenti drammatici, poco pratici e costosi per le attività agricole e di allevamento americane, come il passaggio a macchinari e attrezzature elettriche, l'installazione di pannelli solari e turbine eoliche in loco, il passaggio a fertilizzanti organici, alterare i sistemi di irrigazioni delle risaie e dimezzare il consumo di carne e di ruminanti negli Stati Uniti, costando milioni di posti di lavoro nel bestiame. Nota del traduttore, qualcuno dirà, ma bisogna fare questo? Decisamente non siete al corrente che lo scorso ottobre 2023 è successo questo. Corruzione climatica. Secondo un nuovo rapporto, la maggior parte dei progetti di compensazione delle emissioni di carbonio sono truffe. Vi leggo parte dell'articolo. Un'indagine congiunta del Guardian e del gruppo No Profit di Controllo del Clima Corporate Accountability ha scoperto che la stragrande maggioranza dei progetti ambientali presumibilmente mirati a compensare le emissioni di gas serra GHG attraverso il mercato volontario del carbonio, WCM, sono truffe. Dei 50 principali progetti di compensazione delle emissioni valutati, 39 di essi, ossia il 78%, hanno finito per essere classificati come probabilmente spazzatura o senza valore a causa dei ricercatori che hanno definito uno o più fallimenti fondamentali nella loro struttura e nelle loro operazioni. Come regola generale, i progetti climatici verdi che pretendono di affrontare le emissioni di gas a serra non sono quello che sembrano, ha rivelato l'indagine. Nella migliore delle ipotesi, i progetti esagerano enormemente i benefici climatici, sottovalutando il potenziale danno causato da ciò che stanno facendo. Nel peggiore dei casi, i loro leader prendono tutto il denaro investito e lo spendono in giocattoli e divertimenti. I dati per lo studio sono raccolti da Allied Offsets, il database sullo scambio di emissioni più grande e completo al mondo. Allied Offsets aggrega informazioni sui progetti scambiati all'interno dell'ecosistema WCM fin dal loro inizio, producendo dati che mostrano quanto siano realmente efficaci o meno i loro sforzi. Oltre al 39, ovvero il 78% di progetti classificati probabilmente a spazzatura o senza valore, altri 8, ovvero il 16%, sono risultati problematici con almeno un difetto fondamentale, il che probabilmente significa che anche loro sono spazzatura. Ciò lascia solo 3 dei 50 progetti climatici legati alle emissioni che forse superano la prova di essere operazioni legittime. In poche parole, l'intero mercato della compensazione delle emissioni di carbonio è fondamentalmente una truffa con pochissime, se non nessuna, eccezioni. Nota del traduttore. E mesi prima, vale a dire nel marzo 2023, c'è un articolo che titola Il più grande venditore mondiale di crediti di carbonio è sposto come operazione di truffa. Dobbiamo aggiungere altro? Luca, su Canal 104 Plus Telegram, ha scritto un post che parla della quarta rivoluzione industriale e leggendo si comprende cosa sta succedendo anche qui in Italia. Non siamo immuni dal programma di globalizzazione per estirpare il benessere alla popolazione e renderla schiava di un sistema elettronico guidato dall'intelligenza artificiale. Artificiale significa ottenuto con accorgimenti o procedimenti tecnici che imitano o sostituiscono l'aspetto, il prodotto o il fenomeno naturale. Punto.